Insomma, il governo ora messo da parte Bali, messo da parte l'incontro con Macron, messo da parte quello del COP in Egitto, ora sarebbe il momento di mettersi a lavorare perché abbiamo tanti di quei problemi, fra cui anche il ponte. C'è Salvini che ha pensato che è una cosa bellissima e pensate che stiamo spendendo solo 50 milioni per rimettere in piedi il progetto che era quello vecchio del ponte ad una campata. Vabbè, è inutile che discutiamo su questa cosa. Intanto alla regione non è che si è partiti, perché sì, la giunta è stata fatta, ma voi sapete che la burocrazia ha bisogno dei suoi personaggi, che sono i grandi dirigenti, generalmente si usa il famoso spoil system, una volta che vanno via gli assessori di prima e quindi il Presidente della regione di prima, i grandi dirigenti strapagati, parliamo di gente che supera i 200 mila Euro l'anno, questi finiscono il contratto e se ne vanno, meno male. Però è chiaro che si toglie una parte di organizzazione che bene o male funzionava. Ora c'è in mezzo un problema serio, che è quello della pace fra Schifani e Miccichè. Ora siccome molti sono, fanno riferimento a quello, fanno riferimento a quell'altro, insomma Schifani avrebbe tempo fino al 15, proprio dopo aver fatto le sue nomine, per poter provvedere a cambiare tutti i dirigenti. Oppure potrebbe aspettare che finiscano il loro mandato, perché sono tutti in scadezza, ma non c'è dubbio che abbiamo delle situazioni incredibili. La sanità, come cavolo si può fare se non c'è qualcuno che si muove? L'ambiente, parliamo, ha detto Schifani, sia il termovalorizzatore, il turismo, che dobbiamo fare qualcosa perché la stagione estiva già è arrivata, non vi pensate? Tutti questi se stiamo ad aspettare altri mesi siamo rovinati. Parliamo invece di roba locale, molto locale, parliamo del piano regolatore di Ragusa, che da una settimana tiene banco su tutte le discussioni. Abbiamo avuto il sindaco qua giovedì scorso, abbiamo parlato per 30 minuti, lui continua a dire che il piano regolatore è un atto dovuto, una cosa che doveva fare, che lui come primo cittadino ha preso questo impegno come sindaco, è giusto fare il piano regolatore e quindi sta andando avanti come un treno. E che cosa è successo? Che dopo l'incontro di martedì, di venerdì, non so se è una cosa che è venuta fuori da qui, oppure faceva parte del programma, non mi pare, perché avrebbero detto non vi preoccupate, giovedì prossimo ci riuniamo. Ora è venuta fuori stamattina, la notizia ieri, stamattina, l'abbiamo letta che vengono convocati i rappresentanti dei vari orderi, ingegneri, architetti, etc., nella sala giunta, quindi speriamo che siano pochi, se non ci vanno, nella sala giunta per vedersi illustrare di nuovo questo piano regolatore. Noi ci siamo chiesti, ma quello che è stato detto allora in questo incontro dai vari rappresentanti è stato recepito o meno? Abbiamo al telefono Salvatore Scollo, il Presidente dell'Ordine degli Architetti di Ragusa, della provincia di Ragusa, al quale chiediamo, ma cosa è accaduto in questi giorni? Sentiamo.